Non è andata giù al sindaco di piazza l'assenza delle alte cariche dello Stato alla cerimonia di dopodomani alla foiba di Basovizza, momento centrale delle celebrazioni per il giorno del ricordo dell'esodo e della tragedia delle foibe. Tanto che, lo ha detto rispondendo alla domanda di un giornalista, venerdì si farà sentire. Quest'anno infatti cade il settantesimo anniversario della firma del Trattato di Pace, anniversario che avrebbe richiesto la partecipazione del Presidente della Repubblica, che invece se ne andrà a Madrid, o perlomeno del Presidente del Senato, che in un primo momento aveva dato la propria disponibilità, salvo poi ripensarci. Ci sarà dunque Benedetto della Vedova, sottosegretario agli esteri e, da un punto di vista prettamente politico, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Stamani il Comune ha presentato tutte le manifestazioni indette nell'occasione e che non si esauriranno il 10 febbraio, ma proseguiranno, non solo a Trieste, fino al 17 settembre. Ma è come quest'anno l'idea è quella di considerare la ricorrenza come parte integrante di un dramma che ha avuto nell'Esodo e nelle foibe il proprio apice, ma che ha coinvolto l'intera zona. Nella primavera del 1945 ci sono stati migliaia di italiani assassinati con le foibe o con altri strumenti ad opera dei partigiani del Comunista Tito. Nella stessa stagione e ad opera sempre degli uomini di Tito ci sono state decine di migliaia di sloveni che hanno perso la vita. Si continua tuttora con frequenza quasi mensile in Slovenia a trovare fosse comuni che testimoniano questi massacri. Sempre nella stessa epoca in Croazia sono stati addirittura centinaia di migliaia i croati assassinati dai comunisti di Tito. Ora io credo che è il momento nel quale ricordare che questa tragedia di questo disegno criminoso del maresciallo Tito che con la violenza stava costruendo il suo stato comunista va ricordata come tragedia comune degli italiani, dei sloveni e dei croati. Quella sull'assenza dei vertici della Repubblica non è l'unica polemica che accompagnerà la cerimonia di venerdì. Se infatti molte saranno le presenze istituzionali, se annunciano ad esempio 500 alpini, solo due scuole triestine si recheranno a Basovizza. Laddove Monsignoretto Remannati ha sottolineato la mancanza di iniziative che ricordino il ruolo della Chiesa in quei drammatici giorni. Di Piazza però ha annunciato l'intenzione del Comune di dedicare un luogo importante della città alla memoria del Vescovo Santini.